Sono 225 le bancarelle autorizzate che parteciperanno alla fiera dell'Epifania, giunta alla 63esima edizione. La manifestazione avrà inizio alle 8 di domani e terminerà alle 20. Si sionerà lungo l'anello del Castello Cinquecentesco. Le bancarelle saranno disposte lungo via Legranzasso, via Tagliacozzo, via Castello, via Malta e piazza Battaglione Alpini. Alcune postazioni saranno in piazza Duomo, dove tornerà per l'occasione il mercatino dell'artigianato. Altre saranno collocate nel piazzale della villa. La circolazione subirà alcune variazioni. Dalle 6 alle 22 di domani saranno chiuse al traffico tutte le strade interessate dalla fiera. Sarà istituito il divieto di sosta a ambo i lati, con rimozione forzata dalle 20 di questa sera alle 22 di domani, nelle seguenti strade. Via Legranzasso, via Le Tagliacozzo, via Castello, via Malta, Fontana Luminosa, via Pescara, nel tratto tra via Castello e via Strinella, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Federico II, via Monteguelfi, via Sant'Agostino, via Signorini Corsi, via Zara. Di vieto di sosta anche in via Leovidio, nel tratto compreso tra l'ingresso della piscina e quello del circolo tennis, con eccezione per i veicoli dei dipendenti e degli ospiti dell'hotel Castello. Sarà invertito il senso di marcia di via Pescara nel tratto via Castello e via Strinella, con direzione dalla prima verso la seconda, con contestuale istituzione dell'obbligo di svolta a destra, per i veicoli provenienti da via Zara. Nelle aree destinate alla fiera, la sosta di ogni genere di veicolo, anche condotto a mano, è vietata dalle 20 di questa sera alle 22 di domani. Saranno allestite alcune postazioni di pronto soccorso lungo l'intero circuito. La Croce Bianca garantirà due ambulanze su Porta Castello, nelle vicinanze di via Pescara e via Legranzasso. I volontari della Misericordia presteranno servizio nei pressi della Fontana Luminosa, garantiti anche i servizi genici, che saranno allestiti in via Tagliacozzo, via Castello, piazza Battaglioni Alpine e via Legranzasso. L'AMA ha infine reso noto che sarà prontato un servizio di busnavetta a partire dalle 8.30 fino alle 21 di domani, per consentire di raggiungere più facilmente il centro. Le corse partiranno ogni 10 minuti dal centro commerciale d'Aquilone, transiteranno lungo Viale della Crocetta, il circuito di Colle Maggio, lo stadio di Acquasanta e il centro commerciale Carre Fortroni, dove sarà possibile usufruire del parcheggio, Viale Alcide dei Gasperi e via Ferella. Tutte le corse rimarranno invariate, eccezione fatta per la linea 80, che non raggiungerà piazza Battaglioni Alpini.